Processo al branco, davanti al giudice e presunti responsabili delle violenze sessuali di gruppo reiterate nel tempo ad una minore di melito portosalvo, tra loro anche il figlio di un boss dell'Andrangheta. Sei anni senza verità, nel 2009 spariva da Serra San Bruno Pasquale Andreacchi, i suoi resti ritrovati dopo alcune settimane gettati in un cassonetto. Una vicenda rimasta oscura, ai nostri microfoni, illegale della famiglia. Non ci fermeranno, così risponde il vice sindaco di Cetraro, Fabio Angelica, dopo l'atto intimidatorio recentemente subito, che ha visto andare in fiamme un'auto di famiglia. Drangheta innocua senza patrimoni. La criminalità va colpita nella ricchezza, questo il monito dell'ex presidente della Camera Luciano Violante dal festival Leggere e Scrivere di Vibo. Tra gli ospiti della seconda giornata anche il già presidente dell'antimafia Forgione. Mercoledì in campo, il giorno del primo recupero di campionato per la Vibonese che contro la Nocerina punta al riscatto dopo la sconfitta nel derby contro la città novese di domenica. Possibili novità in attacco. Bentrovati con l'informazione di la CNews 24, questi i fatti principali della giornata. Apriamo con la cronaca preso il via a Reggio Calabria, il processo ai presunti stupratori della giovane di Melito Portosalvo, abusata ripetutamente da un gruppo di uomini di cui farebbe parte anche un esponente del clan Iamonte, i particolari nel servizio. E' iniziato questa mattina il processo a carico dei giovani accusati di aver stuprato una ragazzina a Melito Portosalvo. Alle 11.21 il presidente del collegio, Natina Pratico, ha dato il via alla prima udienza chiamando le parti. Subito è stata eccepita da parte delle difese e delle parti civili la richiesta che il procedimento si svolgesse a porte chiuse per tutelare soprattutto la giovane vittima, considerato che saranno sviscerate tutte le situazioni di violenza che l'hanno riguardata. Hanno fatto richiesta di costituirsi parte civile la regione, la città metropolitana, la consigliera regionale di parità, il garante regionale per l'infanzia e i minori, nonché il fratello della vittima ed alcune associazioni. Proprio le rappresentanti di Non una di meno questa mattina erano presenti al Cedir per far sentire la propria vicinanza alla ragazza. Noi crediamo che sia fondamentale, soprattutto in un territorio come il nostro, soprattutto in una situazione come la nostra, ribadire che questa violenza che appartiene comunque ad un'impostazione strutturale della società deve essere combattuta anche con l'azione dei singoli, dei gruppi, dei gruppi organizzati, perché effettivamente è solo l'azione collettiva, è solo il mettersi insieme, è solo il ribadire le ragioni di un qualcosa che non deve più avvenire. Consolato Minniti per la CNews 24 Minacce e botte all'ex moglie fino al punto di tentare di investirla con l'auto. Con queste accuse i carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato un uomo di 42 anni del luogo per ripetute condotte vessatorie nei confronti dell'ex coniuge dei propri figli. La donna più volte nei mesi scorsi aveva denunciato come l'ex marito l'avesse sottoposta a percosse ed atti intimidatori, non rassegnandosi alla fine del loro rapporto e arrivando a gesti estremi di violenza come il tentativo di investirla con l'auto o l'irruzione all'interno del portone di casa mentre la donna rincasava per picchiarla brutalmente. E proprio oggi ricorre il giorno della morte di Pasquale Andreacchi, il giovane di Sera San Bruno scomparso misteriosamente l'11 ottobre del 2009 a distanza di qualche settimana da quella sparizione il macabro ritrovamento dei suoi resti abbandonati in un cassonetto. Una vicenda ormai ancora non chiarita ma di questo ci parla il legale della famiglia. Io penso che ci sia più di una possibilità, tanto più che il caso erroneamente è stato definito chiuso quando in realtà non è mai stato chiuso, è stata fatta tanta enfasi quando si è parlato di caso riaperto, in realtà un caso di omicidio di un giovane ragazzo non si chiude mai. Ci sono all'interno del fascicolo processuale tutti gli elementi, anzi c'erano già dall'inizio tutti gli elementi per arrivare anche all'applicazione di qualche misura cautelare e di attivare una serie di investigazioni immediate, subito dopo la macabra scoperta dei resti del giovane Pasquale. Abbiamo cercato di accelerare e seguire anche delle ulteriori attività investigative, anche attraverso l'uso di tecnologia scientifica molto raffinata. Ad oggi però non abbiamo avuto da queste analisi, da queste ricerche di DNA elementi aggiuntivi rispetto a quelli che erano i fatti già raccolti nell'immediatezza della scomparsa di Andreacchi, che portano tutti alla stessa conclusione. Penso che la pista da abbattere sia una serie lunga di atti e di fatti accaduti a Serra San Bruno, all'interno della cerchia abituale delle frequentazioni della famiglia Andreacchi e sicuramente il mancato pagamento di quel cavallo, di quella somma, anzi la restituzione di una somma, sia l'elemento che abbia scatenato e che abbia probabilmente determinato la morte del giovane ragazzo. Si è visto incendiare l'automobile della madre parcheggiata sotto casa, pochi dubbi però che il gesto intimidatorio fosse in realtà diretto a lui. Si tratta del vice sindaco di Cetraro, Fabio Angelica, che all'indomani del gesto vile commenta noi non ci fermeremo. Ancora amministratori pubblici nel Mirino, in Calabria. Questa volta è toccato al vice sindaco di Cetraro, Fabio Angelica. L'esponente della giunta guidata dal primo cittadino Angelo Aita si è visto incendiare nottetempo l'autovettura di proprietà della madre parcheggiata sotto casa. Un gesto che lo stesso amministratore del centro tirrenico Cosentino inevitabilmente riconduce alla sua attività pubblica. La gravità è che questo gesto rischia di portare indietro la città di tanti anni, quindi di farla ripiombare in un clima che un po' tutti abbiamo contribuito a cancellare. È anche vero che mai come in questo momento lo Stato è presente a Cetraro e nel nostro territorio, ma grazie anche ad un'azione amministrativa della massima istituzione cittadina, del Consiglio Comunale in primis, ma dell'amministrazione, che ha inciso in maniera forte in quella che è un recupero di alcuni valori fondanti della nostra società, in primis quello della legalità. Malgrado vi sia stata una risposta dello Stato sul piano delinquenziale eccellente che ha liberato questa città, c'è sempre la presenza di un nocciolo duro, soprattutto giovanile, che si vuole organizzare, che dietro lo spaccio della droga vuole avere spazi e non ostacoli. E su questo c'è bisogno di un'azione ancora forte da parte di tutta l'istituzione, compreso anche allo Stato, di continuare come sta a continuare nel suo percorso. Da Cetraro per la Cineus 24. Un uomo di 68 anni, Giuseppe Calabria di Rossano, è morto nella notte scorsa all'ospedale annunziata di Cosenza a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto alcune ore prima sulla strada statale 106 a Corigliano Calabro. L'auto sulla quale si trovava Calabria per causa in corso di accertamento si è scontrata con un auto articolato che proveniva in senso opposto. Nell'urto l'uomo ha riportato alcune fratture ma in un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi, era lucido e parlava normalmente. Portato nell'ospedale di Rossano è stato poi trasferito in quello di Cosenza dove poi è morto. E cambiamo argomento, prosegue a Vibo Valencia. Il festival Leggere e Scrivere, Kermess Culturale, promossa dal sistema bibliotecario con la partnership del gruppo La C Publiem, tra gli ospiti di rilevo della seconda giornata, l'ex presidente della Camera Luciano Violante, intervistato da Pasquale Motta in occasione della presentazione del suo libro Democrazia senza memoria. Democrazia senza memoria, quanto rischiano queste democrazie nell'epoca attuale? Ma è importante recuperare la memoria delle democrazie, i sacrifici che sono fatti per costruire, le difficoltà per tenerla in piedi solidamente. Oggi solo il 40% della popolazione del mondo vive in democrazia e quindi bisogna fare in modo che questa presentazione cresca e dove la democrazia c'è che sia più solida. Per essere solida bisogna conservare la memoria dei sacrifici. Organizzazioni criminali come l'Andrangheta danno il loro contributo nel locuramento delle democrazie? Assolutamente, anche della fiducia alla democrazia perché se non si sconfigge, se non si distrugge l'Andrangheta e le altre organizzazioni mafiosi è chiaro che la democrazia è più debole. Bisogna farlo con la durezza necessaria, soprattutto colpendo le ricchezze. Bisogna veramente mettere meglio a punto il sistema di sequestro e confisca delle ricchezze. L'Andrangheta impoverita non è più pericolosa. E l'intervento integrale di Luciano Violante lo potrete vedere questa sera nella trasmissione Pubblica Piazza in onda alle ore 23 e 30. Parliamo ancora del festival Leggere e Scrivere al quale ha partecipato l'ex presidente della commissione parlamentare antimafia Francesco Forgione presentando il suo libro I tragediatori e lanciando un messaggio attualissimo nei giorni in cui si torna a parlare degli affari dell'antimafia. Pietro Comito l'ha intervistato per noi. I tragediatori perché? Per denunciare la fine di una stagione del movimento antimafia, quella dei supereroi, dei supermagistrati, delle supericone anche dei movimenti antimafia. Noi abbiamo bisogno di un'antimafia delle coerenze, della quotidianità e anche di una politica che recuperi la propria autonomia rispetto alla lotta alla mafia e di un movimento antimafia che recuperi la propria autonomia rispetto alla politica. c'è un compito grande, chiedere alla politica coerenza e radicalità, al mondo economico e imprenditoriale trasparenza dei propri comportamenti e al movimento antimafia di ritornare ad essere autonomo, di non ridursi ad una istituzione tra le istituzioni magari anche pagata. I tragediatori in Calabria invece? Ma guardi, in Calabria il problema vero è che c'è una debole società civile che si occupa di lotta alla mafia, c'è un quasi inesistente dibattito culturale tra gli intellettuali e tutto delegato alla magistratura e anche le vicende giudiziarie impongono ai protagonisti di dimostrare di essere esenti dalle accuse che la magistratura gli pone. Parliamo ora di sanità, perde sempre più pezzi quella lamettina, ma durante una conferenza stampa di un coordinamento di cittadini convocata per denunciare il silenzio di Ulivario il governatore ha telefonato accettando l'incontro in cui gli verranno consegnate richieste e proposte sul Giovanni Paolo II. Telefonata in diretta durante la conferenza stampa si era arrivati ormai a decidere che se Maometto non fosse andato alla montagna, la montagna sarebbe andato da Maometto. L'abbiamo vista emozionato. Perché le coincidenze sono sempre cose particolari, rassicuro che non ci eravamo messi d'accordo col Presidente Oliverio, se no chissà cosa si costruisce di un'alleanza Mascaro-Oliverio. La conferenza stampa del coordinamento 19 marzo era stata convocata per denunciare le orecchie da mercante del governatore Oliverio, chiamato a ricevere il movimento che si occupa della sanità La Metina sin dallo svolgimento della manifestazione del 2016 contro lo smantellamento del Giovanni Paolo II che gli dà il nome. Un incontro mai avvenuto, seppure più volte sollecitato. L'obiettivo è rappresentare e discutere con il Presidente della Regione una piattaforma di rivendicazioni che a 360 gradi mette a fuoco i punti deboli, tanti purtroppo, della sanità La Metina, cosa che ora il coordinamento potrà fare nell'incontro fissato per il 25 ottobre alla Cittadella, visto che durante la conferenza stampa è stato proprio il Governatore Oliverio a chiamare il Sindaco Mascaro per fissare un incontro. Tre priorità da presentare al Governatore Oliverio durante quello che sarà il prossimo vicino incontro. L'istituzione di un centro ortopedico traumatologico capace di affrontare la traumatologia dell'area H24, l'aumento di orario del centro sfusionale ad almeno H12 e l'attivazione della struttura complessa di neurologia con l'immediata autorizzazione all'assunzione di numeri 4 neurologi, un primario e 12 infermieri. Ma la carne al fuoco è tanta, la speranza maggiore è riposta in quei 20 milioni di euro destinati al Giovanni Paolo II e che Mascaro ha espressamente chiesto non vengano destinati alla manutenzione ma invece ad un potenziamento della struttura. Tiziana Bagnato per la CNews24. E mentre alla Mezzia si ragiona sui problemi dell'ospedale cittadino, alla cittadella regionale istituzioni a confronto per valutare lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Cosenza. Entro fine dell'anno la scelta del sito, il servizio. Del nuovo ospedale di Cosenza si parla fin dai primi anni 80, due le location privilegiate. Nella mente di Giacomo Mancini il presidio sanitario doveva nascere a Donnice a sud della città e fungere da cuciture del tessuto urbano con l'area industriale di Piano Lago. Ma si era pensato anche ad un'altra collocazione nel comune di Mendicino. Trent'anni di ipotesi e promesse inaufragate nel nulla, mentre la città continua a fare i conti con una struttura non adeguata ai bisogni di salute dei cittadini. Adesso però con la presentazione dello studio di fattibilità del nuovo grande ospedale regionale potrebbe essere finalmente la volta buona. Prevede la costruzione di un presidio all'avanguardia con elevato standard alberghiero dislocato su 134.000 metri quadrati e con la dotazione di 705 posti letto. È stato illustrato alla cittadella nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il presidente della regione Mario Olivevio, il delegato per la materia sanitaria Franco Pacenza, il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza Achille Gentile ed il sindaco Mario Occhiuto. Tre le aree individuate per la localizzazione, Contrada Muoio, Contrada Vagliolise e Via degli Stadi. Il presidente Olivevio ed il sindaco Occhiuto hanno concordato di avviare già a partire dalla prossima settimana una fase di confronto tecnico sui contenuti dello studio di fattibilità per approfondire gli aspetti legati alle ricadute di carattere urbanistico e sociale delle tre ipotesi localizzative. In ogni caso la scelta dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Torniamo ad occuparci dell'avvertenza call and call di Locri. La questione è stata al centro di un tavolo tecnico avviato ieri alla cittadella regionale sull'emergenza lavoro nella Locride. Riflettori puntati ovviamente sui 145 licenziamenti. Qualcosa seppur a rilento si muove. Dopo il consiglio metropolitano di Reggio Calabria convocato eccezionalmente a Locri la settimana scorsa, ieri sera alla cittadella regionale di Germaneto è stato avviato un tavolo tecnico sull'emergenza lavoro nella Locride. All'incontro convocato dal governatore Mario Liverio erano presenti anche il presidente del comitato dei sindaci Rosario Rocca, il dirigente dell'assessorato a lavoro regionale Fortunato Varone, il capogruppo del PD a Palazzo Campanella Sebi Romeo e le confederazioni di CGL Cisle Will di Reggio Calabria. Nel corso della riunione si è posto l'accento sulla necessità di trovare soluzioni immediate ai 145 lavoratori licenziati alla Call & Call di Locri, l'azienda guidata dall'imprenditore Umberto Costamagna. Sul piano dell'occupazione si sta lavorando alla messa in campo di un vero piano scientifico sul lavoro, mirato a stabilizzare il precariato, contrastare il lavoro nero, ricollocare i lavoratori che hanno terminato gli ammortizzatori sociali e quelli che, come i centralinisti Locresi, non hanno diritto nemmeno alle prestazioni previdenziali, come la Cassa Integrazione. Tra gli argomenti anche la drammatica situazione della sanità, le infrastrutture, con particolare attenzione alla Bovalino Bagnara e i trasporti. Ilario Balì per la CNews 24. Cambio della guardia al comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. Il colonnello Giancarlo Scafuri lascia il capoluogo destinato a Roma, mentre si insedia il colonnello Giuseppe Battaglia. 48 anni, romagnolo, proviene dal comando generale. Lo abbiamo incontrato questa mattina. Sono molto contento di essere qui, sono molto motivato. È una provincia bellissima, è una regione in cui ho già avuto l'onore di prestare servizio all'inizio della mia carriera. Il mio obiettivo è quello di far funzionare il meglio possibile il sistema arma dei carabinieri in questa provincia. Sono due gruppi, 10 compagnie, più di 90 stazioni. Un sistema complesso che spero di riuscire a far funzionare il miglior modo possibile a servizio della cittadinanza e con la collaborazione della cittadinanza in sistema con tutte le altre istituzioni dello Stato che sono in questa provincia. Sicuramente è una delle principali sedi italiane, lo dimostra anche il fatto recente dell'apertura di un secondo gruppo a Gioia Tauro, proprio un paio di mesi fa è stato sostituito e questo credo che sia un segnale che le autorità centrali danno di grande importanza e di priorità che questa provincia ha nel sistema di sicurezza italiano e in particolare per l'arma dei carabinieri. Torniamo brevemente alla cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato 15 kg di sigarette di contrabbando in provincia di Cosenza, è arrestato l'autotrasportatore albanese alla guida del mezzo su cui erano state caricate. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato dai finanzieri di Monte Giordano nel comune di Roseto Capo Spulico. All'interno di alcuni bagagli erano state occultate 28 stecche di sigarette per un peso complessivo di circa 6 kg. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare sono stati poi rinvenuti ulteriori 8 kg di sigarezze. Cambiamo argomento, diffondere la cultura della prevenzione, quindi l'educazione alla salute al centro dell'incontro organizzato al Fermi di Catanzaro dall'Associazione Universo Minori che ha donato agli studenti un defibrillatore. È una problematica di estrema importanza perché noi sappiamo che sono circa 73.000 gli arresti cardiaci in Italia e vuol dire 200 vittime al giorno. Agire precocemente è fondamentale per la sopravvivenza, bisogna essere in grado di agire in 3-4 minuti dall'evento perché sappiamo che in 10 minuti ormai il danno cerebrale è assolutamente irreversibile. La prontezza nelle operazioni di primo soccorso può fare quindi la differenza tra la vita e la morte. L'arresto cardiaco colpisce chiunque senza preavviso, senza tener conto di età, sesso, razza o condizione sociale ed ecco che un defibrillatore può certamente contribuire alla riduzione della mortalità e dei rischi di danni permanenti dovuti ad una tardiva assistenza sanitaria. Per questo l'Associazione Universo Minori ha voluto donare un defibrillatore agli studenti del liceo scientifico Fermi di Catanzaro nell'ambito dell'incontro su educazione, la salute e prevenzione. L'uso del defibrillatore è una questione culturale, è una battaglia di civiltà che deve appunto portare tutte le associazioni sportive ad adottarlo. Questo liceo che è dotato di una cittadella dello sport è estremamente importante che ci sia un defibrillatore. Questo incontro e questa consegna a mio avviso serve come un input alle istituzioni preposte affinché si attivino tutti a garantire il diritto alla salute. Ci adopereremo ad effettuare una formazione seria, adeguata, secondo quelli che sono i criteri che vengono e che sono stati stabiliti a livello ministeriale. Il calcio tra pochi minuti in campo Nocerina e Vibonese per il recupero della prima giornata di campionato di Serie D. Rosso Blu vanno a caccia del riscatto dopo il pesante KO di domenica contro la Cittanovese. Ecco come si presenterà il cospetto della formazione molossa. Pochi minuti e sarà Nocerina-Vibonese. E' il primo dei quattro recuperi di campionato che il club rosso-blu dovrà giocare da qui alle prossime settimane per mettersi in carreggiata. Dopo l'estate folle che ha costretto i monteleonesi allo stop forzato, al San Francesco d'Assisi si affrontano due squadre incavolate nere. Quella di casa è reduce dalla beffa in Calabria contro la Palmese, riuscita a recuperare nel finale una partita praticamente vinta dai molossi. Gravissima l'ingenuità che ha permesso ai neroverdi di Pellicori di conquistare e realizzare rigore, che ha fatto masticare amarissimo la formazione di Morgia. Ha fatto peggio la Vibonese nel derby tre giorni fa contro la Cittanovese. Troppo profumo e troppi specchi per Robode e compagni, ancora non perfettamente calatesi tra i dilettanti, e con in testa forse ancora la Serie C. Un discorso che resta aperto, sì, ma non in campo. Morgia si affida a Gomis in porta, Matino, Manzo e Mautone in difesa. A centrocampo Cecchi potrebbe far rifiatare uno fra Coppola e Marsili, mentre sulle corsie si va verso la conferma di Vitolo e Vanacore. Nessuna novità in attacco, confermato il trio delle meraviglie, Alvino Russo e l'ex Cosenza Cavallaro. Giornata particolare per Salvatore Campilongo, che torna al San Francesco dopo l'esperienza in Serie B con i Molossi. 3-5-2 collaudato per i Vibonesi, che non dovrebbero discostarsi molto dalla squadra vista domenica. Una, la possibile novità. Fuori Allegretti, dentro So Way in avanti, out. Balestrero, K.O. in rifinitura. Alessio Buompasso per la CNews24. Questo era l'ultimo servizio. L'informazione di la CNews24 torna puntuale alle 19.15. Arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews24 anticipa l'informazione. L'edizione giorno alle 13.45 e l'edizione sera alle 19.15. La CNews24, la Calabria che fa notizie.